Per Arezzo è un Glamorous Weekend, una giornata di shopping con le redattrici e il direttore di Glamour e di Natascia Stefanenko. Un appuntamento che ha visto protagonisti oltre 100 negozi e tra questi non sono mancate ovviamente le oreficerie visitate da Cristina Lucchini, direttrice della rivista di mode e stile più letta in Italia. Inaugurata con grande successo nel novembre del 2014, per la prima volta quest'anno è arrivata anche ad Arezzo, Eva Glamorous Weekend. Tappe successive anche Verona, Catania, dove Cristina Lucchini, direttrice di Glamour, sarà presente in ogni tappa visitando personalmente i negozi che aderiscono all'iniziativa. Con lei la madrina di questa edizione, Natascia Stefanenko. Arezzo è molto Glamour, lo scoprirà in questa giornata di shopping con noi. E Arezzo ha anche la sua storia, le sue tradizioni e quindi è una città da scoprire, da raccontare, da riscoprire giustamente. Dove sia un evento particolare per Arezzo, dove la moda incontra questo mondo nostro, della cultura, dell'arte, quindi è un evento, diciamo così, Glamour. Sono molto felice di ospitare ad Arezzo anche da me, stasera alle 20, la mia amica storica, non vintage, e quindi sono entusiasta di questa cosa. Al tempo non importa, pazienza, siamo felici lo stesso.